Nel suo viaggio di nove mesi in giro per l'Europa, quali sono le riflessioni che ha raggiunto per quella che è l'Europa attuale? Sì, il Consiglio europeo mi ha chiesto di farlo questo viaggio e di scrivere un rapporto per cercare di far sì che il mercato unico europeo sia più competitivo rispetto a come è oggi. E quello che secondo me è fondamentale è capire che se noi non integriamo alcuni settori che oggi sono totalmente nazionali, telecomunicazioni, energia, mercati finanziari che invece hanno una rilevanza tale che se rimangono nazionali sono troppo piccoli per battere la competizione cinese, americana e noi saremo un declino continuo, quindi la ricetta che do è quella di integrare questi tre settori, fa sì che sulle telecomunicazioni, sull'energia, sui mercati finanziari riusciamo ad essere più integrati, quindi a essere competitivi con americani e cinesi e quindi a tenere i nostri risparmi in Europa per evitare che se ne vadano, a tenere i posti di lavoro in Europa, a far sì che la crescita sia in Europa. Sono soluzioni, in alcuni casi alcune di queste sono molto tecniche, però politicamente il messaggio forte è attenzione, Cina, India, America sono molto più grandi di noi. O ci mettiamo insieme noi europei oppure da solo ogni piccolo paese europeo non ce la fa. C'è il problema del nazionalismo da questo punto di vista, si riuscirà mai a riuscire a diventare veramente europei? Il concetto è che l'Europa non è un modo per cancellare le dimensioni nazionali, però è molto semplice. Se pensiamo ogni singolo paese europeo di alzare la sua bandierina e di giocare nel campionato del mondo, di un mondo con Cina e India che sono 3 miliardi di persone, è semplicemente che abbiamo già perso. O ci stiamo come Europa oppure non ce la faremo. Questo dobbiamo capirlo, il mio non è un ragionamento ideologico, è proprio di buon senso e molto concreto.